Il giusto, la parola il giusto e la giustizia di Dio è il libro della vita. Queste sono le due parole su cui oggi voglio parlarvi attraverso questo ragionamento, su queste due parole voglio comunicarvi cosa dice la scrittura in proposito della perdita della salvezza. Quando diciamo perdita della salvezza diciamo che uno che è stato salvato, pienamente salvato, non salvato a metà o di seconda categoria, perché i salvati sono tutti uguali, quelli che sono nati di nuovo sono tutti uguali. Quindi tra questi ce ne sono alcuni che purtroppo perdono la salvezza. E facciamo adesso dei ragionamenti. Per quanto riguarda la parola giusto, noi giustamente dobbiamo considerare cosa significa essere giusti secondo le scritture. Ora, se noi andiamo a leggere in Romani, ai primi capitoli, leggiamo, leggeremo lì nell'Epistola ai Romani che viene ben spiegata tutto ciò che riguarda la salvezza. Quindi, al capitolo 3, dal versetto, diciamo, 9, parla del fatto, l'Apostolo Paolo parla ai Romani del fatto che tutti sono peccatori, tutti gli uomini discendenti da Adamo ed Eva, e tutti gli uomini sono discendenti da Adamo ed Eva. Dobbiamo specificarlo questo perché ci sono di quelli che dicono che, diciamo, non tutti sono discendenti da Adamo ed Eva dopo che hanno peccato. Ecco, c'è questa differenza. Ci sono dei discendenti prima che Adamo ed Eva peccassero e discendenti dopo. No, ci sono discendenti solamente dopo che Adamo ed Eva hanno peccato, che prima non avevano i desideri carnali, benché fossero ignudi, capite, non comprendevano, non avevano quella malizia, non comprendevano cosa potevano servire, diciamo, il corpo per moltiplicarsi. Anche perché poi nell'atto, nel rapporto, nel compiere l'atto, c'è il peccato, capite? C'è il peccato, quindi si commette peccato, quindi se avrebbero, diciamo, avuto dei rapporti prima di disobbedire al comando di Dio, avrebbero comunque peccato. Ora, considerato che tutti gli uomini sono peccatori, qui l'Epistola ai Romani dal versetto 21 spiega, siccome sono tutti peccatori, spiega come si diventa giusti, cioè che cosa è che ci rende l'uomo giusto, l'uomo peccatore lo rende giusto, lo salva e lo rende giusto davanti a Dio. Dal versetto 21, Romani 3, 21. Ora, però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata una giustizia di Dio, attestata dalla legge e dai profetti, vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti i credenti. Poiché non v'è distinzione, difatti tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio e sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù, il quale il Dio ha prestabilito come propiziazione mediante la fede nel sangue d'esso per dimostrare la sua giustizia avendo Egli usato tolleranza verso i peccati commessi in passato al tempo della sua divina pazienza. Per dimostrare, dico, la sua giustizia nel tempo presente dove Egli sia giusto e giustificante colui che ha fede in Gesù. Dov'è dunque il vanto? Esso è escluso per qual legge? Delle opere? No, ma per la legge della fede. Poiché noi riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede, senza le opere della legge. Il Dio è Egli forse soltanto l'I Dio dei Giudei? Non è Egli anche l'I Dio dei Gentili? Certo, lo è anche dei gentili, poiché v'è un Dio solo il quale giustificherà il circonciso per fede e l'incirconciso parimente mediante la fede. Quindi vedete, qui Paolo dice che si viene giustificati, cioè resi giusti, solo mediante la fede, non mediante le opere, le opere della legge. perché la giustizia che viene dalla legge diceva che tu devi fare tutte queste cose previste dalla legge, ma se ne fallirai anche solo una, tu ti renderai colpevole di tutta la legge e comunque sarai condannato. Questa era la giustizia secondo la legge. Ma la giustizia della fede, non essendo quindi possibile per l'uomo essere salvato mediante le sue opere, il Dio ha stabilito un'altra legge, la legge della fede, che si viene salvati mediante la fede. E questo era già stato annunziato prima, dai tempi di Abramo, perché Abramo, quindi anche prima della legge, questo patto fu fatto da Dio con l'uomo. che Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia. Vedete, quindi fu giustificato Abramo per la sua fede, non per le sue opere. Ma la fede era descritta anche nella legge, anche nei profetti. Infatti nel profeta Abacuc sta scritto che il giusto vivrà per fede. Vedete, quindi la salvezza, la giustificazione per fede è stata scritta fin dal principio delle scritture. Già dai tempi, no? Già dai tempi di Adame, scusate, dei figli di Adame e Deva, che sono Caino ed Abele, Abele era gradito a Dio perché aveva fede, a differenza di Caino. Vedete, quindi ciò che distingueva l'uno dall'altro non erano le opere che compivano, che hanno compiuto, che comunque compiere delle opere buone è sempre qualcosa di buono, non è che compiere opere buone non deve essere fatto, anzi. Però la salvezza si ottiene per fede e le opere sono una conseguenza della fede, perché uno si comporterà in base alla fiducia che ha in Dio. Mediante la fede, ed è mediante questa fede che uno ha, che viene giustificato, viene redento, viene reso giusto davanti a Dio. Dio lo vede giusto. Quando? Quando nasce di nuovo, quando ha quella fede, viene rigenerato spiritualmente e ha quella fede verso il sacrificio che Cristo Gesù ha compiuto. Che cos'è il sacrificio di Cristo? È la redenzione per i nostri peccati, cioè è la liberazione, redenzione vuol dire liberare dalla conseguenza dei peccati. E sì, perché i peccati andavano puniti, ma noi, avendo fede in Cristo Gesù, cosa succede? Non siamo giudicati col mondo perché Cristo ci ha redenti, cioè liberati da questa possibile punizione dei nostri peccati. Capite? Cioè, non andremo in perdizione col mondo, anche se abbiamo peccato anche noi, ma mediante la fede, mediante la fede in Cristo Gesù, ecco che noi siamo redenti, cioè liberati dalla conseguenza del peccato. In questa maniera che si viene resi giusti e viene confermato anche, Paolo lo conferma, non solo lo ha spiegato ai Romani, ma anche ai Galati, ma anche nell'Epistola ai Galati l'Apostolo Paolo lo spiega in questa maniera. al capitolo 3 di Galati, dal versetto 11. Or, che nessuno sia giustificato per la legge dinanzi a Dio è manifesto, perché il giusto vivrà per fede. E questo è scritto in Abacuc, nel profeta Abacuc. Quindi vedete che la salvezza si ottiene per fede, era già scritta, è sempre stato scritto che la salvezza era per fede. solamente che nel Vecchio Testamento e che nella legge e nei profeti la cosa era un po' più celata. Non è che era scritta, ma era più nascosta. Mentre è stata poi con l'avvenuta di Gesù Cristo, con l'annunzio della salvezza per fede, già a partire da Giovanni Battista, questo tipo di salvezza mediante la grazia del Signore per mezzo della fede in Dio, ecco, che viene spiegata molto più dettagliatamente. E viene aperta anche ai gentili, non solo ai giudei. Capite? Ecco, molte volte troviamo la distinzione, l'elencazione tra giudei e gentili. Perché? Perché all'epoca quando furono scritte queste parole era una grande rivoluzione, cioè una salvezza che non era più soltanto promessa ai giudei, ma passava anche ai gentili, anche a quel popolo che non era un popolo. Capite? Quindi era una grande rivoluzione a quei tempi parlare della salvezza anche che era rivolta ai gentili. Ed è per questo che troviamo nelle scritture sempre la specificazione di tutti e due. Perché se non ci fosse la specificazione uno avrebbe potuto anche pensare solamente che come il resto delle scritture erano rivolte agli ebrei, magari anche queste erano rivolte agli ebrei, ai giudei. E invece no. Le scritture della salvezza per mezzo della fede in Cristo Gesù questo messaggio, questa buona novella è indirizzata anche ai gentili e non soltanto ai giudei. Quindi la specificazione aiuta nel chiarire questi aspetti. Ma ora andiamo avanti a leggere quello che è scritto in Galati capitolo 3 versetto 11. Or che nessuno sia giustificato per la legge dinanzi a Dio è manifesto perché il giusto vivrà per fede. Ma la legge non si basa sulla fede. Anzi, essa dice chi avrà messe in pratica queste cose vivrà per via di esse. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge essendo divenuto maledizione per noi poiché sta scritto maledetto chiunque è appeso al legno affinché la benedizione d'Abramo venisse sui gentili in Cristo Gesù affinché ricevessimo per mezzo della fede lo Spirito Santo promesso. quindi vedete la legge diceva che si doveva essere salvati mettendo in pratica tutto quello che la legge diceva. Mentre la legge della fede cosa dice? La salvezza mediante la fede dice che la salvezza viene data per grazia mediante la fede è un dono di Dio. Ora coloro che hanno la fede vengono da Dio rigenerati spiritualmente vengono rigenerati diventano nuove creature lo Spirito Santo viene ad abitare in loro in loro viene depositata la fede nel sacrificio che ha compiuto Cristo Gesù diventano nuove creature quindi da morti spirituali che erano diventano figlioli dell'Idio Altissimo salvati giusti diventano giusti quindi possono essere chiamati anche giusti non perché non sbagliano mai o perché non hanno mai sbagliato no giusto perché siamo possiamo essere chiamati giusti perché siamo stati resi giusti da Dio capite il Dio ci ha giustificati cioè ci ha resi giusti davanti a Lui quindi ora possiamo andare a Dio come persone come i giusti non perché non abbiamo commesso il peccato ma perché il sangue di Gesù Cristo ci ha purificato da tutti i peccati quindi Dio non vede più i peccati che erano su di noi capite ecco perché ci vede giusti ci vede giusti perché perché il sangue di Gesù ci ha purificato ci vede attraverso il sangue di Gesù il sangue di Gesù ci ha purificato da ogni peccato e siamo divenuti giusti quindi quando la scrittura parla di giusto ma anche nel vecchio anche nel vecchio patto comprende in questa giustizia la fede che quell'uomo ha in Dio capite? quindi la scrittura molte volte distingue il giusto dall'empio il giusto certo il giusto ha in sé comprese anche il fare le opere ma non come l'ottenimento della salvezza attraverso le opere ma dopo aver ottenuto la salvezza quindi presente la fede si sente sospinto a compiere quelle opere che sa che sono gradite a Dio capite? compie le opere come conseguenza della fede noi oggi dobbiamo abbondare nelle opere ma non perché le opere ci porteranno alla salvezza no perché le opere sono la conseguenza della fede capite? siamo stati salvati per fede quando non lo meritavamo e non compivamo nessuna opera buona però una volta salvati noi cerchiamo di compiacere in tutte le cose al nostro padrone e signore Gesù Cristo capite? qui per compiacergli in ogni cosa dobbiamo fare il bene non dobbiamo fare il male capite? dobbiamo astenerci da ogni forma di male sia da ogni apparenza sia dal male proprio in se stesso quindi dobbiamo guardarci da fare qualsiasi cosa che possa anche soltanto apparire male agli occhi degli altri capite? quindi dobbiamo piacere a Dio in ogni cosa e rendere una buona testimonianza anche davanti davanti agli uomini per quanto riguarda le opere che sono importanti guardate bene sono importantissime perché Giacomo anche ci dice che senza le opere la fede è morta e quindi capite bene che quando un credente si santifica compie le opere compie determinate opere con costanza capite? vuol dire che si sta santificando e sta compiendo quello che piace al Signore e sta camminando come piace a Dio questo se lo fa con il cuore cioè se tutto corrisponde la conoscenza della parola i sentimenti interiori e anche la condotta capite? quindi la conoscenza la condotta di una persona e anche e anche e anche e anche i sentimenti la condotta e la conoscenza devono tutte queste cose devono corrispondere se corrispondo perché uno può anche fare le opere ma non metterci il cuore quindi lo fa solo per trascinamento degli altri non vorrebbe farlo ecco comunque quello lì non va bene lo stesso davanti a Dio quindi uno deve compiere le opere perché si sente di doverle fare con tutto se stesso solo così va bene solo così andrebbe bene davanti al Signore ma ora quindi abbiamo visto la giustizia di Dio la giustizia di Dio l'abbiamo solo accennata la giustizia di Dio mediante la fede la giustizia di Dio mediante la legge capite? ma ora vediamo anche alla giustizia dell'uomo perché parlando delle opere dobbiamo parlare anche della giustizia dell'uomo perché c'è anche la scrittura ci insegna che c'è anche una giustizia dell'uomo e andiamo a leggerla infatti leggiamo al capitolo 6 del Vangelo di Matteo 6.1 leggiamo guardatevi dal praticare la vostra giustizia nel cospetto degli uomini per essere osservati da loro altrimenti non ne avrete premio presso il Padre vostro che è nei Cieli quindi qui Gesù parla che dice ci fa sapere che c'è una giustizia ma era già conosciuta per gli ebrei per i giudei era già conosciuta questo modo di chiamare le opere le opere degli uomini venivano chiamate come la giustizia dell'uomo cioè la vostra giustizia perché dice vostra perché c'è una giustizia di Dio e una giustizia degli uomini capite la giustizia di Dio c'è quella lì secondo la legge e la giustizia di Dio secondo la fede e poi c'è anche la giustizia dell'uomo e qui Gesù parla della giustizia dell'uomo che cos'è questa giustizia dell'uomo sono le opere giuste meritorie davanti a Dio sono quelle opere giuste che gli uomini devono compiere infatti in questo capitolo Gesù parla di come queste opere giuste devono essere compiute quindi qui Gesù parla della elemosina parla della preghiera parla anche del digiuno quindi sono cita tre opere buone opere buone che i credenti devono compiere però dice anche come le devono compiere no l'elemosina cioè devono essere compiute non per farsi vedere dagli altri queste 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 opere non devono essere compiute per farsi vedere dagli uomini ma devono essere compiute soltanto magari in maniera segreta possibilmente in maniera da ottenere il premio da Dio che vede nel segreto capite quindi vedete come le opere la giustizia dell'uomo le opere che lui compie fanno comunque riferimento a questa parola giustizia dell'uomo ora per quanto riguarda quindi da qui vediamo che Gesù vuole esorta che l'uomo che i credenti che i suoi discepoli facciano abbondino nelle buone opere nella giustizia dell'uomo nelle buone opere e le facciano nella maniera corretta ora però per quanto riguarda le opere che sono quindi abbiamo determinato cos'è il giusto abbiamo anche visto che per il Signore le opere sono importanti adesso andiamo a leggere cosa dice sulle opere dei giusti e degli empi vediamo cosa dice il Signore e lo leggiamo dobbiamo andare adesso dal profeta Ezechiele al primo capitolo del profeta Ezechiele al capitolo 3 leggiamo dal versetto 16 dal versetto 16 leggiamo queste parole tenendo conto guardate bene a quello che abbiamo detto sul giusto e sulle opere che devono essere compiute leggiamo e in capo a sette giorni la parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini figlio il Duomo io ti ho stabilito come sentinella per la casa di Israele e quando tu udrai dalla mia bocca una parola tu li avvertirai da parte mia quando io dirò all'Empio certo morrai se tu non l'avverti e non parli per avvertire quell'Empio di abbandonare la sua via malvagia e salvargli così la vita quell'Empio morrà per la sua iniquità ma io domanderò conto del suo sangue alla tua mano ma se tu avverti l'Empio ed egli non si ritrae dalla sua empietà e dalla sua via malvagia egli morrà per la sua iniquità ma tu avrai salvata l'anima tua e quando un giusto si ritrae dalla sua giustizia e commette l'iniquità se io gli pongo davanti una qualche occasione di caduta egli morrà perché tu non l'avrai avvertito morrà per il suo peccato e le cose giuste che avrà fatte non saranno più ricordate ma io domanderò conto del suo sangue alla tua mano però se tu avverti quel giusto perché non pecchi e non pecca egli certamente vivrà perché è stato avvertito e tu avrai salvata l'anima tua allora qui in questi in questi versetti vediamo tre soggetti che sono la sentinella che deve avvertire l'empio e il giusto vedete e chi è la sentinella e la sentinella sono i servitori di dio le sentinelle sono gli anziani le sentinelle sono tutti quei fratelli a cui dio ha aperto gli occhi e li spinge ad avvisare i fratelli affinché nessuno si perda è importantissimo questo quindi le sentinelle quelle a cui dio ha aperto gli occhi soprattutto tra i suoi servitori anche gli anziani sono sono sentinelle sono sorveglianti diciamo del gregge quindi devono compiere quest'opera vedete quindi nessuno ci può denigrare ci può calunniare o dire che noi non dobbiamo avvisare l'empio di ritrarsi dalle sue vie malvagie così come noi dobbiamo anche avvisare i giusti dal compiere determinati peccati capite questo bisogna fare questo fanno le sentinelle che sono poste da dio nella chiesa avvisare l'empio affinché si ravveda si penta dei suoi peccati e cambi modo di vivere abbandoni le sue vie malvagie e cominci a camminare come piace al signore ma la stessa cosa vale anche per il giusto perché bisogna avvisare anche i giusti anche coloro che sono stati salvati bisogna avvisarli attenzione perché si viene messi alla prova e non bisogna peccare e cosa avviene per l'empio e per il giusto per l'empio avviene che una volta messo in guardia una volta annunziato che una volta che gli è stato annunziato che può perire e questo si pente si ravvede la malvagità quando anche avvenisse in punto di morte badate bene fino all'ultimo quindi c'è possibilità per l'empio di essere salvato quando questo empio si pente del suo peccato lo rigetta riconosce di averlo commesso lo abbandona se ha la possibilità di abbandonarlo perché vive ancora lo abbandona e si dedica a camminare come piace al Signore ecco che Dio non terrà conto del peccato delle malvagità che lui ha commesso praticamente se l'empio si ravvede i suoi peccati vengono rimessi vengono rimessi oggi vengono rimessi mediante la fede in Cristo Gesù quindi l'empio non sarà più empio abbiamo già spiegato che diventa giusto il suo peccato viene perdonato tutta la sua empietà tutta la sua malvagità non viene più ricordata viene cancellata però badate bene c'è anche l'altro aspetto da considerare che ce lo spiega il Dio attraverso i profeti ed è questo che se il giusto una volta che è diventato giusto ma si mette a peccare commette determinati peccati perché qui non si parla di un peccato che poi dopo chiedi perdono capite qui si parla o di peccati gravi come rinnegare Cristo bestemmiare contro lo Spirito Santo oppure sviarsi completamente dalla verità anche gli sviati se poi non si ravedono rimangono sviati e poi si perdono quindi il giusto la sua giustizia uno può essersi può essersi ravveduto ha vissuto trent'anni nella fede quarant'anni nella fede ma poi abbandona la sua giustizia cade nel peccato o si dà a vivere come vive il mondo nella stessa maniera la sua giustizia non sarà più ricordata capite quello che conta come è scritto anche nei proverbi la fine di una cosa va al meglio che il suo principio è la fine della cosa ecco perché siamo esortati siamo esortati a perseverare nella fede nel buon operare sino alla fine cioè non importa cosa hai fatto in precedenza quello che importa è solo quello che tu hai davanti e devi fare capite quello che hai fatto bene poi porterà frutto porterà frutto nel senso che riceverete premio porta frutto quello che è stato fatto non è che viene dimenticato però ai fini dell'entrare nel regno dei cieli non ci si può sedere quello che abbiamo fatto è fatto dobbiamo continuare andare avanti perseverare in tutte le cose nelle buone opere nella fede nella fede prima di tutto e nelle buone opere nella santificazione nel fare la volontà di Dio perché attenzione il giusto la sua giustizia non sarà ricordata se si svia dalla verità ecco quindi anche sviarsi dalla verità che è una cosa che uno si allontana lo sviamento dalla verità può avvenire anche gradatamente se uno piano piano crede in una falsa dottrina che lo allontana piano piano si allontana dalla via maestra e si allontana ogni giorno di più sempre più lontano capite quello è sviato non sta camminando nelle vie di Dio ecco perché è importante conoscere la verità della parola perché la parola di Dio è una lampada al mio piede una luce sul nostro sentiero è la parola che illumina il sentiero che dobbiamo percorrere capite la parola illumina dove non dobbiamo camminare e illumina anche dove dobbiamo camminare non possiamo prescindere dalla parola noi siamo pentecostali uno dei maggiori errori che sono stati compiuti in ambito pentecostale è questo che tutti credevano nelle rivelazioni date dallo spirito santo che dava a ciascuno false molte erano false non tutte ma molte e hanno abbandonato la parola di Dio cioè seguivano più le rivelazioni che la parola di Dio ecco no questo non deve avvenire non stanno così le cose quello che illumina il nostro sentiero è la parola scritta la parola di Dio capite poi le rivelazioni che Dio darà possono e devono soltanto confermare quello che è scritto ma non possono assolutamente contraddire quello che è scritto nella parola non possono andargli contro se uno mi dice ho ricevuto una parola da Dio dallo spirito santo e mi dice una cosa contraria a quello che è scritto io rigetto quello che dice l'uomo non quello che sta scritto nella parola capite è scritto allora rileggiamo a riguardo del giusto è scritto se io guardate l'eterno che parla attraverso il profeta Ezechiele se io gli pongo al giusto se io gli pongo davanti una qualche occasione di caduta egli morrà perché tu non l'avrai avvertito morrà per il suo peccato e le cose giuste che avrà fatte non saranno più ricordate non è una cosa nuova che il Signore sta dicendo qua perché se noi leggiamo in Deuteronomio al capitolo 13 guardate cosa è scritto cosa dice l'eterno nella legge nella ripetizione della legge al libro Deuteronomio capitolo 13 dal versetto dal versetto 1 13 1 quando sorgerà in mezzo a te un profeta o un sognatore che ti mostri un segno o un prodigio e il segno o il prodigio di cui ti avrà parlato succeda ed egli ti dica andiamo dietro a dei stranieri che tu non hai mai conosciuto e ad essi serviamo tu non darai retta alle parole di quel profeta o di quel sognatore perché l'eterno il vostro Dio vi mette alla prova per sapere se amate l'eterno il vostro Dio con tutto il vostro cuore e con tutta l'anima vostra quindi il Dio permette che ci sia in mezzo alla chiesa i falsi dottori i falsi apostoli i falsi profeti i falsi pastori i falsi fratelli false rivelazioni falsi doni spirituali lo permette permette nella prova il suo popolo perché chi da retta a questi insegnamenti falsi e va dietro a questi sognatori a questi falsi ministri poi si svia capite si svia dalla verità non ama la verità non ama l'eterno dimostra di non amare l'eterno e chi è colui che compie che mette alla prova il suo popolo l'abbiamo letto no? è l'eterno che mette alla prova il suo popolo quindi l'eterno permette che i credenti passino delle prove delle tentazioni e se cadono però se cadono poi ne renderanno conto a Dio e certe cadute ad esempio lo sviamento se Dio non gli concede dopo un ravvedimento quello sviamento dalla verità credendo a delle menzogne quindi quello sviamento porta alla perdizione eterna quindi vedete come è importante stare attaccati alla parola di Dio perché adesso che siamo qui sulla terra abbiamo ancora la possibilità sia di correggerci che di migliorarci ma se improvvisamente dobbiamo mancare e non siamo pronti e ci sta scagliando all'inferno il Signore non c'è più niente da fare badate bene cioè o decide il Signore come con qualcuno ha fatto decide di riportarlo nel nel corpo quindi non lo fa morire o altrimenti se decide di non riportare quella persona nel corpo la sua anima nel corpo quello sarà gettato all'inferno e quindi cosa servirà tutto quello che hai fatto sulla terra e cosa servirà se sei all'inferno quindi su che cosa ti devi concentrare oggi su cosa ti devi concentrare sulla vita eterna come ottenerla sei stato già salvato non stai non stiamo mettendo in discussione la salvezza ma stiamo mettendo in discussione la concentrazione la determinazione la perseveranza su mantenere questa salvezza capite perché la scrittura così ci esorta come abbiamo detto la sentinella cosa deve fare deve avvisare l'empio e il giusto altrimenti gli sarà chiesto conto a lui può perdere la sentinella può perdere la salvezza non avvertendo capite perché chi ha in cuore il bene della chiesa deve avvertire avvisare gridare suonare la tromba avvisare i giusti e gli ingiusti avvisare i giusti e gli empi di tutte le cose di tutti i pericoli purtroppo che ci sono in giro anche dentro la chiesa bisogna farlo è importante capite quindi avete capito il perché ci sono delle sentinelle che devono avvisare l'empio e devono avvisare il giusto per quanto riguarda il giusto attenzione se il giusto smette di perseverare nella fede smette di compiere le opere buone smette di santificarsi smette di credere in Dio e smette di camminare nella via di Dio ma cammina nella via degli empi ecco la sua giustizia sarà dimenticata quindi vedete la perdita della salvezza che viene insegnata anche nel nuovo testamento non è niente di nuovo il Dio non ha mutato idea su queste cose qua infatti abbiamo letto dai profetti il giusto vivrà per fede ma se si trae indietro l'anima mia non lo gradisce capite la salvezza è per fede ma non bisogna tirarsi indietro non bisogna ritrarsi indietro perché altrimenti altrimenti la sua giustizia non sarà più ricordata così come non sarà ricordata l'empietà dell'empio che si ravvede capite c'è questa dualità questo dualismo sia che riguarda l'empio che riguarda il giusto quello che conta è la fine vale meglio la fine di una cosa che il suo principio è tutto scritto eh guardate bene non è che ci stiamo inventando niente ma è così importante che rimaniamo sempre il profeta Ezechiele le stesse cose le ribadisce con qualche parola diversa però le ribadisce anche in altri capitoli ad esempio nel capitolo 18 di Ezechiele dal versetto 20 anche qui c'è qualche versetto che ribadisce lo stesso concetto qui dice 18-20 di Ezechiele l'anima che pecca è quella che morrà quindi se nel momento in cui Dio chiama si trova nel peccato l'empio l'empio andrà all'inferno ma se nel momento che Dio chiama un giusto e il giusto sta vivendo nel peccato andrà all'inferno anche il giusto capite? questo è assodato questo è chiaro deve essere chiaro non devono esserci dubbi perché nel momento in cui siamo chiamati a lui nel senso chiamati non al ravvedimento ma chiamati di partirci dal corpo in quel momento vale la nostra situazione di quel momento se viviamo nel peccato se uno vive nel peccato andrà in perdizione sia esso un empio che non ha mai conosciuto la verità sia esso un giusto che ha conosciuto la verità ma si è lasciato andare non si è santificato e ha cominciato a percorrere le vie degli empi quindi e vediamo versetto 20 l'anima che pecca è quella che morrà il figliolo non porterà l'iniquità del padre e il padre non porterà l'iniquità del figliolo la giustizia del giusto sarà sul giusto l'empietà dell'empio sarà sull'empio e se l'empio si ritrae da tutti i peccati che commetteva se osserva tutte le mie leggi e pratica l'equità e la giustizia praticare la giustizia vedete cioè compiere opere buone quelle che piacciono al Signore e pratica l'equità e la giustizia egli certamente vivrà non morrà quindi l'empio che si ravvede non muore però guardate anche cosa succede al giusto che si ritrae indietro o si ritrae dalla via della verità nessuna delle trasgressioni che ha commesse sarà più ricordata contro di lui per la giustizia che pratica egli vivrà provo io forse piacere se l'empio muore dice il Signore l'Eterno non ne provo piuttosto quando egli si converte dalle sue vie e vive e se il giusto ecco qui è il giusto e se il giusto si ritrae dalla sua giustizia vedete e commette l'iniquità e imita guardate bene qui cosa dice imita tutte le abominazioni che l'empio fa vivrà egli nessuno dei suoi atti di giustizia sarà ricordato per la prevaricazione di cui si è reso colpevole e per il peccato che ha commesso per tutto questo morrà vedete cioè ci sono due strade quella dell'empio che si ravvede ma c'è anche quella del giusto che si ritrae dalla sua giustizia capite qui in tutti e due casi l'empietà dell'empio che si ravvede delle sue malvagità non viene ricordata però non viene neanche considerata da Dio la giustizia del giusto che si ritrae indietro che si mette a vivere come a commettere tutte le abominazioni che commettono gli empi a seguire il mondo capite questo si chiama sviarsi beh se uno rinnega Cristo commette un peccato che non può essere perdonato quello basta anche solo uno e dopo di che è perduto per sempre non c'è non c'è più possibilità ma il rischio a cui i credenti dentro la chiesa vanno maggiormente incontro il rischio che è più subdolo è quello dello sviamento dalla verità ecco perché bisogna stare attaccati alla parola perché vogliamo che la parola ci guidi non siano gli uomini ma la parola che ci illumini il sentiero dove dobbiamo rimanere che solo se camminiamo come dice la parola siamo sicuri ma se camminiamo come dice l'uomo e non siamo mai andati a verificare quello che gli uomini dicono riguardo alla parola non abbiamo verificato dalla parola ecco che possiamo sviarci perché ci siamo affidati all'uomo e non a Dio dobbiamo affidarci soprattutto alla parola cioè non che nell'uomo non dobbiamo avere un po' di fiducia anche nei nostri fratelli eh non è che adesso non ci fidiamo no però però la 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 fiducia totale assoluta deve essere solamente nella parola di Dio quindi bisogna sempre andare a guardare le cose come stanno scritte nella parola vi citiamo le scritture le leggiamo appositamente per questo per permettere ai santi di andare a verificare di verificare sul momento capite altrimenti noi parleremo liberamente senza citare alcuna scrittura capite quindi è importante citare le scritture dimostrare quello che si dice attraverso le sacre scritture ne parla ancora sempre il profeta Ezechiele vedete quanto è importante quando si ripetono i discorsi vuol dire che sono molto importanti quindi dobbiamo porre ancora più attenzione ne parla anche al capitolo 33 il profeta Ezechiele lo leggiamo dal versetto leggiamo dal versetto 12 e tu figliol duomo di ai figlioli del tuo popolo la giustizia del giusto non lo salverà nel giorno della sua trasgressione e l'empio non cadrà per la sua empietà nel giorno in cui si sarà ritratto dalla sua empietà nello stesso modo che il giusto non potrà vivere per la sua giustizia nel giorno in cui peccherà quando io avrò detto al giusto che per certo egli vivrà se egli confida nella propria giustizia e commette l'iniquità tutti i suoi atti giusti non saranno più ricordati e morrà per l'iniquità che avrà commessa vedete se l'uomo anziché confidare in Dio comincia a confidare in se stesso comincia a sentirsi sufficientemente a posto davanti a Dio qui dice se l'uomo il giusto confida nella propria giustizia e commette l'iniquità quindi uno quando comincia a confidare in se stesso quindi non segue più le cose come il Signore gli ha ordinato comincia a confidare magari nell'uomo in altri uomini comincia a confidare nella sua giustizia nelle sue opere ecco la fiducia se viene spostata da Dio verso altre cose quindi sta peccando questo comunque lo porterà a compiere sempre più peccati questi peccati cosa farà? lo faranno morire lo porteranno alla morte capite? ma nella stessa maniera come Lempio quando Lempio abbandona la sua malvagità il Signore lo salva a pietà di Lui la sua impietà commessa non viene ricordata nella stessa maniera vale la giustizia del giusto la giustizia che ha compiuto se Lui si svia si ritrae indietro si mette si svia dalla verità la sua giustizia precedente non sarà più ricordata capite? così funziona così è scritto è così sono determinate le cose ora non è che io ho citato i passaggi dei profeti perché diciamo sono l'unico l'ho fatto sempre sempre perché anche nel Nuovo Testamento viene citato il Vecchio Testamento nei passi del Nuovo dai vari servitori di Dio ad esempio lo scrittore agli ebrei lo scrittore agli ebrei scrive appunto queste parole che che riassumono quello che stiamo dicendo quindi andiamo a leggere al capitolo 10 di ebrei capitolo 10 di ebrei e al versetto al versetto 36 per farvi capire che lo scrittore agli ebrei ha citato le scritture poiché voi avete bisogno di costanza affinché avendo fatta la volontà di Dio otteniate quel che vi è promesso perché ancora un brevissimo tempo è colui che ha da venire verrà e non tarderà ma il mio giusto vivrà per fede e se si trae indietro l'anima mia non lo gradisce vedete qui ci sono citazioni comunque dei passaggi dei profeti di Abba quindi possiamo quello che sta scritto nella legge e nei profeti possiamo utilizzarlo anche oggi sotto la grazia anche oggi se ne facciamo un uso legittimo naturalmente per spiegare determinate cose non per imporre di nuovo la legge ma per spiegare per capire qual è la volontà di Dio in determinate cose ecco un certo utilizzo anche del Vecchio Testamento lo si può fare e in quel caso in quel caso si fa un utilizzo dei passi della legge e dei profeti nella maniera corretta non per imporre di nuovo la legge e la badate bene esortare alla santificazione non è imporre la legge imporre la legge qual è? e se io vi imponessi di osservare il sabato di pagare la decima di non mangiare carne di animali impuri capite? queste sono forme di imposizione della legge che ci sono in mezzo alla chiesa alcune 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 gruppi religiosi impongono queste cose cose che noi assolutamente non sono insegnate sotto la grazia non sono imposte ai santi sotto la grazia né il sabato né su una festa nessun giorno né la decima né il pagamento della decima e neanche l'imposizione di non mangiare determinati cibi che tutti i cibi sono puri davanti al signore quindi vedete si può si possono citare passi del vecchio testamento ora ora passiamo a leggere qualcosa che riguarda il libro della vita perché perché abbiamo detto il giusto cosa succede l'empio l'empio che si converte vuol dire che è scritto nel libro della vita prima della fondazione del mondo è stato scritto il libro della vita dove sono elencati tutti coloro che si ravvedono e nascono di nuovo quindi chi sono quegli empi che si ravvedono sono quelli che sono scritti nel libro della vita quelli che non sono stati scritti nel libro della vita non si ravvederanno mai questa è la dottrina della predestinazione c'è stato scritto un libro e così avviene così avviene quello che è scritto avviene non ci può essere uno che non è scritto nel libro della vita che si ravvede capite e si converte al Signore non ci sono questi ci sono solamente quelli che si ravvedono solamente quelli che quelli che sono i cui nomi sono stati scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo però c'è da considerare anche un'altra cosa su questo libro della vita che da questo libro della vita si può essere anche cancellati quindi tutto corrisponde vedete anche esaminando il fatto della perdita della salvezza del giusto che abbandona la via della verità e tutto come abbiamo detto l'abbiamo visto spiegato in un certo modo parlando del giusto ma ora lo vedremo anche dal punto di vista del libro della vita cioè che dal libro della vita si può essere cancellati quindi sono due modi vedete di esprimere la possibilità che il credente possa perdere la salvezza quindi è una dottrina che è dimostrata in tantissimi passi delle scritture oggi ve ne ho presi solo alcuni e non ho neanche preso quelli più più comuni quelli più conosciuti quelli che citiamo più spesso ho voluto prenderne un pochettino altri un po' diversi però quelli del libro della vita sono importanti perché bisogna conoscerli e sono passi su cui bisogna assolutamente riflettere se uno ha qualche dubbio qualche riserva ancora così ha altri versetti da segnarsi per leggerli pregare Dio e aspettare una risposta per quanto riguarda il libro della vita andiamo a leggere le parole di Mosè quindi adesso dobbiamo andare nel libro di Esodo andiamo nel libro di Esodo dove il popolo peccò con il vitello d'oro il popolo peccò la situazione era questa capitolo 32 di Esodo dal versetto 30 leggiamo il popolo peccò commise un grande peccato davanti all'Eterno e il Signore li voleva distruggere tutti ma Mosè intercede per il popolo e lo fa in questa maniera l'indomani Mosè disse al popolo voi avete commesso un gran peccato ma ora io salirò all'Eterno forse otterrò che il vostro peccato vi sia perdonato Mosè dunque tornò all'Eterno e disse ahimè questo popolo ha commesso un gran peccato e si è fatto un Dio d'oro non di meno perdona ora il loro peccato se no de cancellami dal tuo libro che hai scritto e l'Eterno rispose a Mosè colui che ha peccato contro di me quello cancellerò dal mio libro capite cioè Mosè intercede per il popolo ma gli dice al Signore o Eterno se non vuoi perdonare il popolo cancellami cancellami a me dal libro della vita perché sta parlando del libro della vita ma l'Eterno gli risponde cioè gli ha chiesto una cosa che non era possibile in quel momento per Mosè e infatti gli risponde e l'Eterno rispose a Mosè colui che ha peccato contro di me quello cancellerò dal mio libro vedete ad esempio se uno rinnega Cristo Gesù pecca contro l'Eterno commette un peccato che lo porta il Dio a cancellare il suo nome immediatamente dal libro della vita capite e chi commette determinati peccati o chi si svia completamente alla fine quando non c'è più niente da fare o Dio decide di non concedergli di nuovo il ravvedimento a quello sviato di cuore se non gli concede più il ravvedimento il suo nome viene cancellato dal libro della vita e chi pecca chi vive nel peccato chi abbandona la via della verità e della giustizia che viene cancellato non chi cammina come piace al Signore capite Mosè gli dice cancellami no e Dio l'ha dovuto correggere perché quello che ha chiesto Mosè non era possibile non era secondo la volontà di Dio non solo perché Mosè doveva continuare la sua opera e altro ma perché lo spiega il Signore che viene cancellato solo coloro che peccano solo coloro che commettono determinati peccati o si sviano si sviano completamente sempre sul libro della vita adesso passiamo a leggere quello che riporta Giovanni nel libro dell'Apocalisse quindi andiamo e citiamo adesso dei versetti dell'Apocalisse che parlano ancora del libro della vita cominciamo dai primi capitoli dal capitolo 3 dal versetto 5 dice allora qui Gesù scrive parla a Giovanni gli dice di scrivere delle lettere alle sette chiese sono vere chiese sette chiese sono le chiese come scritto lì con dei pastori l'angelo che è scritto quando dici all'angelo della chiesa di scrivi quell'angelo lì si intende il pastore il conduttore la persona che ha diciamo la responsabilità maggiore di quella comunità che in una di queste epistole si parla di ministerio quindi non sono angeli la parola scrive così angelo vuol dire messaggero quindi messaggero di Dio è vero cioè la parola è vera è verace il servitore di Dio il ministro di Dio chi ha il ministerio è un messaggero di Dio però cioè non sono degli angeli degli spiriti ministratori ecco ma sono degli uomini degli uomini chiamati in quel in quel Gesù li ha voluti chiamare in quella maniera e hanno un ministerio questi uomini quindi si presume presumiamo che avendo un ministerio chi gestisce la comunità la responsabilità della comunità è il pastore e al pastore all'angelo della chiesa di Sardi Gesù dice a Giovanni di scrivere di scrivere queste parole di scrivergli queste parole tra le altre dal versetto 5 3 5 di Apocalisse chi vince sarà così vestito di vesti bianche ed io non cancellerò il suo nome dal libro della vita e confesserò il suo nome nel cospetto del padre mio e nel cospetto dei suoi angeli vedete quindi coloro che hanno un vestito hanno le vesti bianche quindi non hanno le vesti macchiate di peccato non sono macchiate ma sono bianche le vesti quindi sono lavate dal sangue di Gesù non verrà cancellato il suo nome non verrà cancellato vedete c'è la possibilità quindi è ammesso vedete per la seconda volta leggiamo nelle scritture che dal libro della vita qualcuno può essere cancellato però anche qui dice fa riferimento a quelli che non saranno cancellati però da questi passi comprendiamo che come anche ha detto l'eterno in esodo come abbiamo visto nel passo citato prima in esodo che l'eterno quelli che vengono cancellati l'eterno ha detto che quelli che vengono cancellati dal libro della vita sono quelli che peccano contro l'eterno che commettono il peccato che vivono nel peccato quindi bisogna stare attenti bisogna temere Dio e fuggire il male questo è il tutto dell'uomo fondamentalmente cosa deve fare un credente temere Dio e fuggire il male perché se teme Dio si conduce in un certo modo e poi deve sapere anche che deve fuggire il male deve fuggire il male cioè combatterlo non farsi prendere dal male perché il male comunque arriva a ondate a prove a periodi capite e bisogna resistere comunque se qualcuno ha peccato si ricordi anche che deve confessare i suoi peccati al Signore e il Signore è misericordioso ed è fedele fedele e giusto e gli rimetterà i peccati che sono stati confessati chiediamo il perdono anche di quelli che ci sono occulti peccati che magari non sappiamo di aver commesso e il Signore ci perdonerà anche di quei peccati andiamo avanti in Apocalisse c'è un altro passo un altro passo che dice che parla del libro della vita avanti leggiamo dove c'è la bestia che sale dal mare al capitolo 13 di Apocalisse al versetto 8 leggiamo e tutti gli abitanti della terra i cui nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato l'adoreranno quindi quando verrà la bestia che sale dal mare chi è che lo adorerà lo adoreranno quelli che non sono scritti nel libro della vita qui questo versetto biblico ci dà questa informazione ma ce ne dà anche un'altra ci dice quando è stato scritto il libro della vita qui dice che è stato scritto i cui nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita quindi fin dalla fondazione del mondo è stato scritto questo libro capite quindi anche qui viene citato il libro della vita in ultimo per quanto riguarda il libro della vita cosa verrà durante il giudizio finale quindi dobbiamo andare al capitolo 20 di Apocalisse durante il giudizio finale cioè quando ci sarà la risurrezione degli ingiusti dopo alla fine del millennio ci sarà il giudizio finale dove i libri saranno aperti e saranno tutti giudicati a riguardo del libro della vita stanno scritte queste parole leggiamo nel versetto 15 e se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita fu gettato nello stagno di fuoco vedete voglio farvi notare che qui non c'è niente di strano perché nel momento del giudizio finale nel momento del giudizio finale si andrà a vedere quelli che sono scritti quelli che sono scritti che sono ancora scritti nel libro della vita perché nel libro della vita mancheranno i nomi di quelli che non sono mai stati scritti fin dalla fondazione del mondo quelli non sono mai stati scritti e mancano nel libro il giorno del giudizio ma poi mancheranno perché saranno stati cancellati non saranno considerati neanche i nomi di quelli a cui saranno stati cancellati appunto capite quindi nel giudicare saranno giudicati non solo quelli che gli empi che non si saranno mai convertiti e non sono mai stati scritti nel libro della vita ma saranno giudicati anche quelli che i cui nomi erano inizialmente erano fin dalla fondazione del mondo scritti nel libro della vita ma è accaduto qualche cosa che Dio li ha cancellati capite quindi quelli saranno giudicati e subiranno il giudizio e saranno gettati nello stagno di fuoco e si perché se un nome era scritto è nato di nuovo poi viene cancellato qui c'è scritto se non sei presente nel libro della vita sarai gettato nello stagno di fuoco vedete le persone che sono state salvate che erano scritte nel libro della vita ma poi vengono cancellate vengono gettate nello stagno di fuoco e di zolfo vedete quindi quindi questo avviene questo avviene a coloro che non perseverano nella fede questo avviene voglio concludere con le parole con delle parole di Gesù per i credenti rivolte a tutti i credenti è importante perché sono importanti andiamo al capitolo 24 di Matteo del Vangelo di Matteo Gesù dice queste parole ma chi avrà ah perché leggiamo anche i versetti prima così comprendiamo ci saranno dei momenti difficili il Signore esorta a perseverare fino alla fine e dice molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti l'abbiamo già letto in Deuteronomio 13 vi ricordate l'abbiamo letto che Dio permetterà che sorgano dei falsi ministri falsi profeti falsi pastori falsi apostoli e cercheranno di sedurre i santi nella chiesa ma i santi non devono farsi sedurre devono stare attenti capite e perché l'iniquità sarà moltiplicata la carità dei più si raffredderà vedete verranno momenti difficili in cui veramente la carità dei molti credenti si raffredderà ecco noi non dobbiamo raffreddarci non dobbiamo diventare tiepidi e né raffreddarci capite ma guardate poi dice Gesù ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato è importante guardate le parole che dice il Signore chi quindi coloro che avranno perseverato ci avranno continuato a comportarsi ad avere fede sino a quando alla fine non dice per la maggior parte del tempo o per una parte di tempo no qui Gesù impone un tempo ben definito che dice sino alla fine della vita nostra capite c'è la perseveranza nella fede nelle buone opere nella santificazione deve essere deve continuare sino alla fine quando moriremo entreremo nella pace del Signore nel riposo di Dio e quindi tutto terminerà ma fino ad allora fratelli e sorelle dobbiamo correre dobbiamo vincere abbiamo un premio da vincere la vita eterna dobbiamo perseverare capite perseveranza continuare sino alla fine perché questo è quello che dobbiamo fare questo è quello che insegnano le scritture e a riguardo del fatto che ci sia qualche gruppo religioso che insegna che la salvezza non si può perdere porta i santi al rilassamento spirituale capite cominciano a rilassarsi non temono cioè non cresce il timore di Dio capite se la sentinella come abbiamo letto nei profeti Ezechiele la sentinella deve gridare contro gli empi e contro i giusti capite se la sentinella non grida più contro i giusti questi non gridano neanche contro gli empi veramente però non gridano più contro i giusti il giusto perirà perché c'è questo pericolo il pericolo c'è per il giusto capite il Dio chiederà conto anche alla sentinella ma il giusto che non sta attento non persevera fino alla fine abbandona la via della verità o si dà a vivere come vivono i pagani i peccatori il mondo vive nella stessa maniera perché nessuno gliel'ha detto perirà lo stesso perirà lo stesso perirà per il suo peccato quindi è pericoloso è pericoloso frequentare fratelli che insegnano questa dottrina vi avviso vi avverto state attenti perché purtroppo un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta e questa è una dottrina che spinge le persone anche al suicidio capite perché dopo tu devi giustificare se la salvezza non si può perdere e un credente si è suicidato tu devi dire che è stato salvato lo stesso ma se dici così però stai spingendo altri a farlo a commettere quel peccato quell'omicidio di se stessi e gli omicidi vanno all'inferno noi diciamo invece che la salvezza si può perdere i suicidi vanno all'inferno vanno all'inferno quindi chi ha avuto questi pensieri o chi ce li ha o li ha avuti attenzione se metti in atto quella pratica tu andrai all'inferno e noi questo non vogliamo che accada per questo che le sentinelle avvisano avvertono e gridano contro questo peccato affinché le anime non si perdano affinché nessuna anima si perda e questo era fratelli e sorelle nel Signore il messaggio che avevo in cuore di portarvi quest'oggi a Dio siano la gloria l'onore e la lode nei secoli dei secoli amén